Dal 2 al 5 aprile la Calabria sarà presente a Verona al Salone Internazionale del Vin Italy 55esima edizione che ha contribuito a segnare crescita e successo del vino italiano sui mercati internazionali e la Calabria con la sua antica tradizione enologica grazie all'assessorata all'agricoltura non poteva che essere presente. Naturalmente è la manifestazione più importante del settore vitivinicolo italiano e la Calabria è presente anzi la Calabria sarà presente con uno stand più grande con più metri, arriviamo a 1400 metri quadrati con un nuovo allestimento d'accordo con i consorsi di tutela e con tantissime aziende che hanno risposto all'appello della regione oltre 80 aziende, alcune anche del settore amari perché in questo settore noi siamo leader a livello nazionale e con una serie di manifestazioni anche all'atere ed animazione all'atere come il Vin Italy in the City oppure la presenza di tanti influencer di questo settore presso il nostro stand che dimostra come la regione Calabria voglia sostenere gli sforzi rivolti alla qualità dei nostri imprenditori del settore che sono stati tanti e che quindi vanno sicuramente implementati attraverso una azione forte da parte della nostra regione.